Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 19 settembre di Globus Television. Giovedì, pressione moderata sulla nostra regione. Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo si sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime con valori fino a 31 gradi, minime grosso modo stazionarie. Mari, Martirreno poco mosso, Marionio poco mosso, stretto di Sicilia poco mosso.